Andiamo, andiamo. Sì, buongiorno, senta, sono un commerciante quasi stessi, volevo sapere come è la situazione, Allora, ascolti un attimo, si sono fermati a San Piazzarena, a San Piazzarena è tutto risolto, quindi direi che non dovrebbero venire da quelle zone lì. Non dovrebbero, quindi è un condizionale. No, 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 perché comunque a San Piazzarena si è tutto liberato, per adesso è a posto così, quindi non dovrebbero passare. Però comunque voi chiudete, io direi di chiudere, comunque poi fate voi, cioè voglio dire, comunque a San Piazzarena adesso è tutto sedato, però comunque… Va bene, va bene, arrivederci insomma.